Primo allenamento per il neo biancazzurro Manuel Gasparini, classe 2002, nelle immagini con la maglia del Potenza, arrivato in prestito dal club Lucano, col quale Gasparini ha collezionato 56 presenze, di cui 14 nell'attuale campionato. Subito in campo domenica prossima sul neutro di Alessandria contro la Juve Under 23 inizio ore 14. Scontato il forfe di Pizzari che accusa un problema al polpaccio. Gli accertamenti hanno evidenziato un edema ancora da valutare l'entità dell'infortunio. Oggi l'ex Milan è rimasto a riposo, nuovo controllo previsto tra domani e dopodomani, in ogni caso non verrà rischiato. Stesso discorso per Franchini e a Cornero, ormai sulla via del completo recupero, sicuramente pronti per il posticipo casalingo in programma con la Perugia lunedì 15 gennaio alle 20.30. Da ieri invece alle prese con la febbre Riccardo Brosco. Mancano ancora tre giorni al match con la Juve Under 23. Assai probabile l'impiego in difesa di Davide Di Pasquale. Al fianco di Mesic per l'ex Foggia si tratterebbe finalmente della prima da titolare il campionato. Se confermata l'assenza di Pizzari, novità sostanziale, l'esordio di Manuel Gasparini. Proviamo ad ipotizzare gli altri reparti in difesa Floriani, Mesic di Pasquale e Milani. A centrocampo Aloy, Squizzato e D'Agasso, davanti Merola e Cangiano a supporto di Cuppone. Mercato, Mora, come già accennato piace a Fiorenzuola, Virtus Verona e Virtus Francavilla. In entrata Delicarri proverà ad ingaggiare una mezzala di qualità. In uscita Vergani. Tommasini invece resterà alla corte di Zeman. In tal caso nel reparto avanzato non sono previsti innesti.